Musica Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapaz oggi Siamo di nuovo qui ragazzi in un nuovo video Siamo appunto qui ragazzi in un unboxing speciale Praticamente mi sono arrivati due pacchetti Regalo mi hanno regalato i miei Mi hanno fatto due regali Uno i miei genitori e uno il mio zio Mi hanno fatto regalo dalla S Roma Store Quindi mi raccomando un bel mi piace E ora vi faccio vedere subito un bel commento qui sotto Scrivendomi la vostra E mi raccomando se siete nuovi iscrivetevi al canale Attivate la campanella delle notifiche E fatemi sapere se volete altri video unboxing Che ci sono già altri video sul canale Andate a recuperare Vi lascio la playlist di tutti i video unboxing qua sopra E se volete altri video unboxing Mi raccomando tanti mi piace E ovviamente tenetevi attivi anche sui social Su Instagram, Jabioz e sulla piattaforma Viola Sempre Jabioz e quasi tutte le sere vado in live Quindi vi aspetto Iniziamo subito con il video Buona visione Vamos E iniziamo subito ragazzi con il primo unboxing Guardate ragazzi con il logo della Roma Vi faccio vedere perché mi mettono in quadratura Ok Vi faccio vedere guardate che bello Il pacchetto è bellissimo Questo è il primo unboxing ragazzi Ovviamente non ce le averò target Perché prima me le devo provare Se me entrano Perché se non me entrano le devo cambiare Quindi ve le faccio solamente vedere Guardate che sono belle Visto che mi devo fare le pantofole nuove Eccole qua per quest'estate Per andare in piscina Cioè raga guardate con il logo Con l'uvetto della Roma raga Tessuto direi ottimo Sono quelle rigide Qua sono morbide e qua sono belle rigide Quindi non c'è neanche il rischio che Se possono magari che ne so rompe Perché sono belle rigide Guardate qua che belle Vi faccio vedere che Vi faccio vedere il logo Se metto a fuoco che è originale Marchio S Roma Numero ovviamente Il mio numero che è 42 Fatemi sapere se vi piacciono qua sotto Io direi che No non me le voglio provare perché Mi dovrebbero entrare comunque Io vi consiglio sempre Se vi fate qualcosa Prendetevi sempre Un numero di più Mai un numero di meno Comunque perché Magari se calza tanto Cioè almeno Poi se non vi entra Andate a cambiare Però vi consiglio sempre Prendete un numero in più Che non fa mai male Cioè comunque Le pantofole Dovrebbero calzare abbastanza bene Comunque 42 Poi se c'erate il 43 di piede Vi dovrebbe entrare uguale Questo era il primo unboxing Le ciabatte Con l'uvetto Nere Guardate qua allo sfondo Ci sono i tre colori Rosso, arancione e giallo Che belle Sotto Vabbè so così Fatemi sapere che ne pensate Schiediamo un vostro parere Qui sotto nei commenti E poi andiamo al pacchetto più bello Questo qui Che ho aperto adesso Me l'ha fatto mio zio Questo Me l'hanno fatto i miei genitori Non so perché Non era neanche il mio compleanno Forse perché Era tanto che non mi facevano un regalo E quindi me l'hanno fatto Questo è un regalo Che io L'ho chiesto io Tanto tempo fa Sono circa due anni Che insisto Ai miei genitori Fatemi 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 Faccio Ovvero la maglia Ragazzi Guardate che bella Era tanto tempo che la volevo Io ovviamente ho detto Fatemi anche una replica buona Non serve forse l'originale Invece mi hanno fatto l'originale Meglio ancora Guardate che bella Col lochino con la scritta dentro Guardate che spettacolo Raga Mamma mia che bella Mo non me la provo Perché ma la provo dopo Col lochino della Nike Che non mi ha pagato la Nike Ovviamente Però se me vuole Se me Se vuole la Nike Vuole che io sponsorizzi i prodotti Mo faccia sapere qua sotto Guardate che bello Mamma mia Raga questa In tutti i video In most estare Ci sarà Ci sarà questa maglia Già ve lo anticipo Guardate che bella Mamma mia Qatar Airways Ecco qua Cioè Ma che spettacolo E poi ragazzi Il bello ragazzi Non ci sono Ovviamente gli stemmini Qua dietro I loghi della Serie A Sta roba qui Il bollino della Champions De Respect Però ragazzi Guardate che ci ho fatto Mette dietro Con il numero 22 Nicolo Zaniolo E poi non solo ragazzi Guardate qua Con il coso Della Hyundai Che pure lei Non mi ha pagato Però facciamo Pubblicità occulta Vai Eccolo qua Con il logo Della Hyundai Guardate qua Ragazzi Mamma mia Che bello Lo stemmino Sopra Il tessuto Pure è molto Buono Cioè Il tessuto Della maglia Ovviamente Essendo pure Originale Questa è una taglia XL Ma la calzano Parecchio Quindi Io vi consiglio Prendere sempre Una taglia In più Perché se forse Avete una L Prendete una XL Se avete una M Prendete una L Perché queste Magari potrebbero Risultare un po' Strette Quindi Prendete sempre Una taglia in più Io ho preso Una XL Se l'ha provata Mio padre Che più o meno È della mia stessa stazza E gli andava larga Quindi Eccola qua raga Ditevi un parere Qua sotto Guarda pure il tessuto Vi faccio vedere qui È rigido Buono Non si sente Però Guardate che bello Bello rigido Cioè È uno spettacolo Poi Questa qui è bellissima Perché sono i colori Mi ricordano Mi ricordano L'alba E il tramonto Guardate che belli Rosso Arancione Giallo Proprio con la sfumatura E poi ovviamente Il mio giocatore preferito Il giocatore Che vorreste sempre A fine a fine carriera Alla Roma È lui ragazzi Nicolo Zagnolo Con la 22 Mamma mia Fatemi sapere la vostra Qui sotto Con tanti commenti Ditemi se vi piace Questo unboxing Ditemi se volete Ah vedete C'è pure scritto Dry fit Non so se l'avevo fatto vedere C'è scritto proprio Dry fit Ecco qua Fatemi sapere Che ne pensate Di questo special unboxing Fatemi sapere Se volete Altri unboxing Qui sul canale Ne trovate Gli altri unboxing Trovate qua sopra nelle schede Trovate tutta la playlist Qui sopra nelle schede Andate a recuperare E niente ragazzi Ecco è tutto E noi col social Ci vediamo un prossimo video Bella ragazzi Posso farlo con la maglietta nuova Sempre e comunque Forza Roma Sempre e comunque Forza Roma Sempre e comunque Dai e dai e dai Vamos Bella ragazzi